Ci si ferma e si riparte più forti di prima. San Giovanni è la scelta di prendersi una pausa in mezzo ad un coro di incoraggiamenti. Torna a splendere, fratellino, gli scrive Madame. Hai un coraggio non da tutti. Il tuo è un talento cristallino e non si esaurirà col tempo. Chi già conosce da anni il potere ambivalente della ribalta lo invita a non sentirsi solo. È capitato anche a noi, i primi periodi. Siamo in sicurezza, sono momenti difficili. Io dico a San Giovanni di andare avanti, di non preoccuparsi, che ritornerà più forte di prima. Insieme a loro Fiorella Mannoia, Mr. Rain, Blanco. Forza bello mio, scrive Emma. E ancora fan, amici, attori. Ma tra i posti più commoventi spicca quello di Tiziano Ferro. So bene cosa vuol dire avere la tua età e ritrovarsi nello stato che hai descritto. Se c'è qualcosa di cui avrei avuto bisogno a quell'epoca, era un amico, una persona saggia che mi stesse accanto. Ed eccola quella persona, Tiziano Ferro, che in poche parole aggiunge prenditi cura di te.